Ma nel vostro settore, cioè, qual è la bici, cioè esiste una bici apposta per fare trick, apposta per fare sand? Sì, sì, con l'è, ti zio fa dei trick. Sono due tipi, cioè, o la mountain bike, che si chiama MTB, la chiamiamo noi. Certo. O la versione wheelie bike BMX, che praticamente è una semplice BMX, con le ruote più grandi, fino ad arrivare a 29 di diametro. C'è 26, 27 e mezzo, 29, lì cambia, in base a quanto sia alto alla fine, tutto lì. E vabbè, hanno geometrie diverse, il mountain bike ha il classico manovra mountain bike, la BMX, cioè, la manovra BMX, però quelli più larghi sono diversi da quelli da freestyle, quelli da freestyle sono più vicini. Certo. Invece quelli là, quelli che usiamo noi, sono più larghi, sono fatti apposta, cioè, hanno impostazioni diverse. Quindi, cioè, sono proprio state studiate apposta per fare questo? E anche quella è una figata, perché, a meno che parliamo di custom, cioè, se rigiri questa domanda, ma sulle moto, cioè, non esiste una moto fatta per impennare, che io sappia. Cioè, non esiste un costruttore che ti fa proprio il modello apposta per pinnare. Poi, ok, te la prendi, esatto, te la customizzi te, ci metti l'handbrake, ci fai quello che vuoi, alla fine lo fai. Però, è curioso, cioè, è paradossalmente più avanti la bike life quando si parla di bici da questo punto di vista. Sì, perché, beh, è anche più easy progettare, c'è l'essere, sono dei tubi messi qui. Esatto, ci metti dei tubi, non c'è un motore, un telaio cazzuto, cioè. Certo, 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 c'è nel tuo video, no? Fabio, che saluto. Che ha messo i tubi. Che ha messo i peg sulla Decathlon. Certo, sì, infatti stavo dicendo, ovviamente, le moto sono più complicate e tutto. Però, se ci pensi, alla fine, nel concreto, cioè, ad un'azienda, al posto che fare le plastiche normali, magari fai la plastica con il buco apposta per il peg, o il buco sul codino apposta per buttarci il piede, come se fosse una stunt bar. E sarebbe una bella giocata. Cioè, capito. Dovrebbe esserci un'azienda che non ha niente da perdere, che fa una moto del genere. Esatto, oppure una Cerbis che fa le plastiche replica. Il discorso è che non è una roba riconosciuta, cioè, non c'è lo sport, capito? Però ad un'azienda, cioè, secondo me, gli ne frega poco, perché dal momento in cui tu vendi pezzi, che sia uno sport o non sia sport, Cioè, per fare una moto, una stunt, dovrebbe uscire con l'handbrake, con una stunt bar, con un buco nel codino, con i peg, con le plastiche già bucate. Ma allora, le plastiche le rivisiti, zio, fai un kit con la plastica, le plastiche apposta per un determinato modello di moto, lo fai per il K125 che toglie il più comune, ok? Ci fai le plastiche che vanno bene sulla maggior parte dei modelli, già con i buchi dei peg. Li vendi in un kit, fai già il codino bucato, zio, e prendi i soldi. Nelle bici le ditte stesse poi fanno gli upgrade. Certo. Ti vendono già l'upgrade, ti vendono quello, ti vendono la sella, ti vendono il manubro fatto così. Come se fossero le power parts di Capitiem. Esatto, sì, esatto. Te le vendono già. E te le fanno, anche per dire, i ragazzini te le fanno in mille colori diversi, e lì la gente ne lascia i soldi. Sai che mi sembra veramente strano che non lo facciano. Una moto, fatta. Non ci sia, non una moto, anche solamente le plastiche. Perché come, mi sembra molto strano che... Eh, perché è una roba troppo di nicchia. Sai che non lo so, zio, i soldi li farebbero, secondo me. Ma guarda WM Racing cosa sta facendo con gli handbrake già preparati, con tutte le varie robe per i motard. Bisogna vederci lungo e avere i soldi da investirci dentro. Però devi dire, a KTM fai la moto da stante. No, no, zio, tu fai un kit da stante per le moto, non devi... C'è, c'è la stunt bar già fatta, il break già fatto. Cosa è che serve poi, bro? Eh, come ti dicevo. Cioè, se prendi una stradale devi avere il serbatoio apposta, devi avere i peg per la stradale, devi avere la tripla pinza magari, le robe del genere, ma ci sono, le fanno. Poi chiaro, in base anche a quello che vuoi far te, te la chitti come vuoi te. C'è chi si trova meglio con la stunt bar, c'è chi si trova meglio con il buco nel codino, dipende cosa devi fare, cosa non vuoi fare. Grazie. Grazie.